La casa di Babbo Natale La nostra associazione lo fa sempre a fini benefici, quindi quest'anno portiamo avanti una nuova causa che è quella del centro Laila di Castelvolturno e la forza di Matteo. Il ricavato della mostra dei presepi andrà in beneficio a queste associazioni. La mostra dei presepi quest'anno si svolge all'interno dell'ex ospedale dell'Annunziata, quindi abbiamo una location più grande, abbiamo una location che si presta molto bene. Quest'anno, come già dall'anno scorso, in collaborazione con Ante Omnia offriamo oltre al percorso natalizio anche il percorso culturale. Quindi con l'aggiunta di un euro al biglietto di 4 euro, il visitatore riesce praticamente a vedere sia la Grotta d'Oro che la mostra permanente con tutti quanti i tesori dell'Annunziata. Gli orari, allora a novembre praticamente siamo aperti tutti i weekend e gli orari sono il sabato dalle 3 e mezzo alle 10 mentre la domenica dalle 3 alle 9. Poi a dicembre avremo anche delle aperture continuative, oltre ai weekend aggiungiamo anche la domenica mattina dalle 11 a mezzogiorno e mezzo e in più dal 22 saremo aperti tutti i giorni fino al 6 gennaio. Un bel saluto a questi bambini, ciao bimbi, fate buoni, mi raccomando un bacione.